3, 2, 1, vai! E buonasera a tutti amici, bentornati alle previsioni del tempo con Jessica Moore. Passiamo subito alla prima regione. Lombardia, Lombardia, tanti finocchi! Passiamo subito all'Emilia Romagna. Emilia Romagna, tante patate! Buone, lesse e fritte e a forno. Poi passiamo al nostro Lazio. Lazio, tante carote, mi raccomando, intere, mai affettate! Poi passiamo anche alla Puglia. Puglia così rinomata e così famosa per cosa? Per i suoi cetrioli! Belli, grossi amici, non perdeteveli! Passiamo alla Sicilia con tante zucchine e mare molto calmo, 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 calmo! E passiamo subito alla Sardegna. Sardegna, mare mosso e tanti piselli! Tanti piselli, verdi, gialli, rossi, verdi, blu, di tutti i colori! Un bacione e dalla vostra Jessica Moore è tutto! A voi studio! Ok! Buona la prima! Grazie a tutti.